La copertina dello sport di questo lunedì è dedicata all'ennesimo trionfo europeo di una nazionale italiana in questo fantastico 2021. Ed è un'altra nazionale partorita dalle marche. Dopo i trionfi dell'Italia di calcio dello Jesino Mancini e dell'Italia di pallavolo femminile del marottese Mazzanti, si laurea campione d'Europa anche la nazionale femminile di basket sorde che iniziò la sua gestazione dieci anni fa proprio a Pesaro grazie al lavoro della direttrice tecnica Beatrice Terenzi, della responsabile comunicazione Elisabetta Ferri e dell'allenatrice Sara Braida che sabato sera hanno raccolto i frutti di un lavoro visionario battendo la Russia 63-61 e mettendosi al collo la medaglia d'oro del campionato europeo. Non c'erano titoli ma c'era grande attesa invece per il debutto di coach Luca Banchi sulla panchina della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. A Venezia il cambio di tecnico ha dato una scossa ad una VL gagliarda per 35 minuti ma che poi ha ceduto nell'ultimo quarto per i motivi spiegati da Banchi in conferenza stampa. È una partita dove siamo stati capaci di produrre uno sforzo eccellente fin dall'inizio anche con un buon livello di qualità di gioco sfruttando le opportunità che ci siamo costruiti di fronte all'emergenza di dover gestire una situazione falli veramente grave di grandissima pesantezza abbiamo cercato comunque di rimanere nella partita purtroppo l'ultimo periodo non siamo praticamente riusciti ad utilizzare i nostri giocatori che appena entrati si sono visti fischiare immediatamente il quinto fallo. Noi non abbiamo dimostrato di avere quel cinismo e quella personalità che sarebbe servita soprattutto negli ultimi dieci minuti quando come è presumibile la partita avrebbe preso dei connotati tattico agonistici diversi e noi invece siamo stati colpevoli di aver perso palloni ingenuamente falli in attacco e errori difensivi che hanno sicuramente agevolato il rientro di Venezia che è stato molto prepotente. Nel calcio è sempre più positivo il momento della Vispesero che al Benelli batte il gubbio 1-0 grazie ad una rete di Nicolo Gucci al 53esimo e in anella il sesto risultato utile consecutivo. I ragazzi sono stati stratosferici perché? Perché siamo alla terza partita in una settimana perché l'altra volta abbiamo fatto il trenino di 4 punti e adesso abbiamo fatto di 5 perché incontravamo il gubbio che vinceva 3-0 e 4-0 perché la solidità della fase di non possesso ormai è una certezza è in casa vincere il nostro dovere. Noi oggi abbiamo fatto una partita dove abbiamo iniziato forte perché sapevamo che loro potevano lasciare qualcosa e dopodiché penso che ormai l'avete capito siamo noi che scegliamo che spazio difendere siamo noi che scegliamo quando abbassarci e se vedete una squadra che va negli ultimi 30 metri non è sofferenza, sono scelte. Nel calcio a 5 l'Ital Service prosegue il suo tour de force di partite ravvicinate. Venerdì al Palafiera è arrivato il secondo pareggio consecutivo. 1-1 gol di Taborda con i pesaresi frenati da un'ottima serata delle portiere avversario. Ora l'Ital Service si tuffa nel main round di Champions League da lei stesso organizzato all'RDS Stadium di Rimini. Si comincia mercoledì affrontando i russi delle Tumen per poi aggiungere i duelli di giovedì con i cecchi di Pilsen e di sabato con i cazzacchi del Cairo a Talmati. Domenica di sconfitta invece nel calcio di Serie D per l'Alma Juventus Fano che perde 1-0 il derby in casa San Benedettese così come nel volley la Megabox Vallefoglia galvanizzata dalla prima vittoria in Serie A questa volta deve chinare il capo 3-1 a Bergamo. Sconfitta ma che frutta comunque due punti in classifica il debutto stagionale al Toti Patrignani della Fiorini Pesaro Rugby in virtù del KO di misura 24-25 contro i vicini di casa della Romagna.